Che Bello ragazzi con il brano di stifuoco Siamo tornati con il mio video Raga Su burrito bison Però con l'altro account Raga Ho deciso di giocare perchè laggavo un po' troppo Quindi ho deciso di andare a giocare con Questo E sono arrivato già un bel po' avanti Come vedete Qua il 4, 4, 4 4, 4 4, 3, 3 4, 3, 3 3, 3 E poi ragazzi ho bloccato pure questo Tante robe E ho un milione e oggi saremo per Un po' Avete pure forse uno spacchettamento di lama di quella che si scioppano Wow Di lama che si scioppano vedete un spacchettamento raga Perchè Perchè Se ci va bene raga Questo qua è veramente Se ci va in alto Questo qua è veramente diventato C'è il robot più poderoso Ti trovi tutto tutto così Come tipo Come tipo Quanto intano Se no Io li ho metà mondo Schiocco di dito Ai orelli Venga Porco tipo Comunque Come avete visto Ho fatto una nuova intro raga Comunque ci saranno due intro diverse In vari Ci saranno intro diverse Sapete perchè Perchè Sono due dispositivi Dunque io faccio Faccio l'elitro E quindi E quindi non potevo fare gli uguali Oh raga è vero Ho sblocato pure quello Fammi arrivare E ha sblocato questo bombacilio Sblocato Io volevo fare il professor Mi fermaglio Raga Raga che raggio Che bug No raga ma qua Qua si è buggato un botto Che vaffanculo Che chi meriti il gioco Ma vaffanculo Comunque raga Tra due giorni in teoria Potrete vedere Dragon Ball Z Kakarot Come nuova serie Se Vai così Se comunque riuscivo anche a ripassare questo muro Solo che adesso non lo farò Però raga Beh questo qua Non aspetta Però che cazzo Non ne frega Che se vado So far una cosa E vedere Se se può Se si può Spigliare Un'afferta Ne ho vede Un attimo Guarda Flash sale Allora Prima nenti Non ci sono Altrimenti Questa roba è Cos potente Se ci sono Pignata Io forse Piglierò Questi 15 Raga Fra un po' Fra un po' Raga Vaffanculo Aspetta Ragazzi Con Con Tre Ho preso Tre pignatte Mega Potenti Adesso andremo a aprire insieme Vai Guardate che poter Che poderose Che saranno queste Oh mio Due Sette Vai Dammi robe belle Tacorazzi Va bene Tacorazzi Dai Vai Vai Dammi altre robe Su Bello Dammi un po' Di sordi Così Grazie Ce l'abbiamo Tre Raga Queste Qua Verano Mega Robe Belle Vai Spacchiamo Un'altra Oh Ce la fai Grande C'è raga Sette Questa cosa qua Davvero È incredibile Vai Bello Raga Comunque Due milioni e sei Risparmiati sul velociometro Quindi Raga Vai Raga Ma che bella roba Come ho trovato Raga Qua tre Fraghiere Ho trovato il mondo L'universo Ancora una Vabbè Avere Raga Ho trovato l'universo Tutto Tale Cioè Abbiamo Prima Questo qua Che ce lo dovremmo Prendere Però io volevo Prendere Cacchia spinosa Straccia Stella E il velociometro Adesso Sono finito Però Raga Cioè Ho preso Il velociometro Nivelo Cinque Sta cosa È proprio Bella E Poi dopo Ho preso Pure Il La Cacchia spinosa Livello Due Raga Questa qua Costava Avere risparmiato Un milione Due Invece Il velociometro Un milione E sei Vai Che morge Vai Vai Raga Adesso Ci sono Ci quanti poteri Dell'universo Quanto L'aglio Che Non è Raga Vai Proviamola Proviamo Col nuovo Livello Vai Proviamo Se magari Ci fa andare Più Alto Forse Dora Di Più Forse Fa Qualcosa No Sopra Sicuramente Migliore Quindi Questo È Important Non so Perché Non riesco A giocare Perché Sta Laggando Tipo Troppo Sto Davvero Intritto Questo Gioco Eh Un Gioco Tripposo Non ho capito Perché Però Soprattutto Quando Lagga Poi Dopo È Proprio Casino Eh Vedi Non ho Preso Quello Perché Laggava Soprattutto Vai Così Dammi la coppia Spinosa Vai Dammi la coppia Spinosa Dai Ma Però Va bene Va bene Va bene Me l'ha data Vedete Raga Basta Chiedere Vai Vai In alto Vai In alto Dai Io Volevo Far Vedere Cosa Faceva Se andava In alto C'è Come Thanos Quando Spiccava I Fini Di War Capito C'è Di Suggire Metamondo Wow Raga Guardate Un po' Quanto Bello È Questo Cosa Credo Che sia Uno Dei Giochi Preferiti Su Tabis Con Il telefono Se Quello Se Volete No Raga Però Non Ho Preso La Pignata Raga Potremmo Fu Quella Normale Ti Prego Vai No Vabbè Però C'è Questo Che Mi Fatto Andare Lì Dammi Una Bomba No Cazzo Vabbè Raga Vabbè Allora Non è Che Siamo Messi Bene Però Guardate Un po' Che Roba 241 Mila In Un Lancio Quanto Quante Le robe Che Ci Siamo Fatte Perfect Direi No Il Tacco Razzi Vedete Se lo Pugliamo Così Pugliamo Pure Questo Con Fettone E Raga Ciao Raga E Raga Per Tre In Vero Ha finito Qua Perché Purtroppo Raga Dopo Nusciranno Altri Su questo Account E Ciao La prossima Da Burrito Bison R R Bavion E Orsetto Blu E Bombacilli E Tutto E Poi Dopo C'è Pure Tanti Altri Lunciador E Basta Ciao Raga Ciao Ciao Ciao